Il titolo del video di oggi è se trovi uno di questi qualcuno ti spia in auto ma andiamo giù in auto e vediamo di cosa si tratta, venite con me Nel video di oggi vedremo due semplici sistemi che permettono di controllare la propria autovettura di conoscere la posizione e soprattutto di ascoltare ciò che viene detto all'interno dell'abitacolo Ora a seconda di come vengono utilizzati e impiegati questi due sistemi l'utilizzo può essere legale o illegale Ricordo sempre che spiare terze persone un reato quindi questi dispositivi nascono per il controllo dei propri mezzi Ma vediamo il primo sistema, quello lì che all'apparenza sembrerebbe un normale caricabatterie da auto quindi il classico alimentatore che va inserito all'interno della presa dell'accendisigari che opportunamente modificato, oltre a ricaricare il cellulare o un altro dispositivo all'interno è stata occultata una microspia GSM che permette di ascoltare, chiamando da un cellulare il numero di telefono inserito all'interno della microspia qui c'è la sim quindi una volta richiuso tutto è lasciato nell'auto il dispositivo oltre a ricaricare come dicevo prima il cellulare permetterà di localizzare la posizione esatta del mezzo o di ascoltare cosa viene detto all'interno dell'abitacolo ma passiamo adesso al secondo sistema, si tratta di un GPS magnetico con ascolto ambientale che può essere applicato sia all'esterno del mezzo sia all'interno si tratta di, come dicevo prima, di un sistema di localizzazione e di ascolto a distanza con attacco magnetico che può essere posto anche sotto il sedile dell'auto sfruttando per l'attento i magneti è di dimensioni ovviamente più grandi rispetto al dispositivo che abbiamo visto in precedenza ma questo sistema è alimentato a batteria mentre invece il caricabatterie da cellulare per funzionare deve essere inserito all'interno della presa in questo modo non avremo bisogno di alimentarlo perché verrà alimentato in diretta ogni volta che accenderemo l'autovettura invece per quanto riguarda il sistema di localizzazione che permette l'ascolto ambientale quindi il GPS questo qui ha una batteria interna e questo modello ha un'autonomia di circa 15 giorni quindi oltre a localizzare la posizione esatta della macchina in tempo reale sempre tramite cellulare sarà possibile chiamare, attivare il microfono e sentire questo modello di GPS come gli altri, anche con autonomia maggiore è possibile attaccarli anche all'esterno del mezzo quindi sfruttando i magneti è possibile attaccarlo sotto la vettura e in questo modo potrà essere localizzata la vettura in qualsiasi momento sempre da cellulare vi ricordo sempre che l'impiego di questo dispositivo è sempre ed esclusivamente per il controllo della propria autovettura quindi come sistema di antifurto è che è un reato applicare e installare il GPS sotto la vettura di terze persone Nello di ciò vi ringrazio per l'attenzione prestata vi invito sempre a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo delle tecnologie investigative ciao a tutti, alla prossima